1943, un secolo fa. 2 di settembre 1973, gli americani bombardano Trento e l'obiettivo era colpire la stazione delle Corriere di Piazza Dante a Trento. Io allora abitavo dove attualmente c'è il palazzo della regione, era un palazzo gemello a quello della provincia. Anziché prendere la stazione hanno preso casa mia e io ho perso la casa. Mi hanno aiutato dei parenti che avevo a Trento e mi hanno portato sopra Martignano in una località che si chiama Maderno, che non ha a che fare con Maderno del Gaza. Là c'era una situazione particolare, non c'erano più gli uomini contadini perché erano tutti in guerra e c'erano rimaste lì un gruppo di ragazze, la madre, le figlie eccetera. E lì per due mesi ho fatto il contadino. Esperienza che mi è molto servita. Ma questa parentesi, questo diremo antefatto, l'ho voluto dire perché quando si andava con queste ragazze a levare le patate, a mungere, dico di più, la sera in stalla a fare filò, a vendemmiare e chi più ne ha più ne mette. Quale poteva essere l'accompagnamento di fondo? Si cantava, si cantava sempre. Che era quella che staccheva via e cominciava una canzone e tutti gli andavamo dietro, chi faceva prima, chi secondo, chi stonava, chi non stava. Però c'era, nonostante la guerra, nonostante un clima di restrizioni, la gente era più allegra, la gente cantava. Allora mi ricordo sempre, salta fuor lupo dal bosco e giù di questo passo. Oppure c'era quell'altra, e vieni alle in alle due, oppure quell'altra ancora, no go le chavi del portom, no go le chavi del portom. E si cantava, si andava per i sentieri, si incontrava uno, ehi là, Beppi, salve, tutto bene? E giù di questo passo. Oggi cosa succede? Allora, c'è uno stato di benessere incredibile, secondo il mio parere. Televisione dove si mangia, televisione nel letto, macchina per ognuno, telefonino lo hanno tutti, ma, 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 c'è un po' di incazzatura generale. La gente, non so, mi sembra meno disponibile a salutare. Difatti quando io vado a Malè e vado a fare delle gitte, faccio anche due passi, quando incontro qualcuno, io dico salve, e il gruppo sembra quasi che sia stato colpito da un fulmine, e dice salve, salve, buongiorno. Cioè, la gente mi dà l'impressione che giri pensando a se stessa, chiusa in se stessa, e non si interessi assolutamente di quello che avviene intorno. Ecco, questa forse è una grande mancanza, perché quando si va per la strada, non si può dire, e là, Galas, come va la Parisi, tutto bene? Sì, io in generale dico sempre benissimo, perché col mestiere che faccio, se Dio creava Malè è un disastro.